Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Il video di oggi sarà un video in coppia, siamo in due Siamo io e Alessandro, il mio ragazzo che è stato ospite sul canale per un certo periodo È stato ospite molto spesso Adesso di recente si è un po' assentato, è stato un po' latitante Però è tornato E nel video di oggi andremo a rispondere a delle domande In realtà sono un po' confusa perché intanto credo Anzi sono sicura che abbiamo già risposto a queste domande in passato però Nel 2021 parato 2022 quindi penso che lo siate dimenticato Comunque ci sono persone nuove Io non me lo sono dimenticato Avevamo apporto un bicchiere di vino E eravamo a Roma E si mi ha finito un po' E poi basta Quel video lo trovate nella playlist video in coppia presente sul canale E comunque morale della favola Io di recente ho visto il video di Agne e Ale ASMR E che salutiamo E che salutiamo E che salutiamo E di consul Sai che sbaglio spesso il loro nome? C'è il mio ricordo se è Ale e Agne o Agne e Ale Guardo tutti i video che pubblicano E adesso è stato giusto Confermo Alessandro odia quando ascolta ASMR Dice anche io consegno ASMR E lui dà fastidio Un'altra persona qui dà fastidio quindi si arrabbia un po' Cioè non che si arrabbia però ecco sta un po' su nervi E loro hanno risposto a delle domande E io le ho presse al loro video Poi però ho visto il boyfriend tag Del canale di Kaya ASMR Che salutiamo Che ha risposto col suo ragazzo Però non hai salutato Salutiamo Salutiamo Salute a tutti E lei ha usato altre domande Quindi io onestamente non ho capito se questo è il boyfriend tag Comunque no So solo che sono delle domande di coppia E che risponderemo insieme Ecco Ce le leggi Alessandro le domande Fatti avvicinati a me le fatti un po' più Ok allora iniziamo Aspetta che non c'è Dove e come ci siamo conosciuti Rispondi tu Rispondi tu Allora ci siamo Conosciuti a scuola E perchè andavamo a scuola Al primo anno Non si Al primo anno Di superiori E basta Di a scuola E come? Ah come A scuola Si stanno in classe insieme Conosciuti però perchè messi insieme è tutta un'altra cosa Esatto Prossima domanda Prossima domanda Dove siamo andati al primo appuntamento Però forse già è troppo amanti come domanda Dovremmo tipo dire quando ci siamo messi insieme no? C'è la domanda C'è la domanda? No E allora lo diciamo Ok 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 Facciamo le cose così Riazzi di mezzogna da cinque anni e quindi Fa anche ridere E' sempre la stessa storia ok E' sempre la stessa roba Raccontata mille volte Anzi se andate a vedere quel video Raccontiamo pure nel dettaglio Per segno si Perchè quello non era un tag Erano domande fatte a noi Da loro Quindi dove siamo andati al primo appuntamento? Noi E lo suo primo appuntamento è stato un po' strano In pratica Noi facevamo parte dello stesso gruppo di amici Poi un giorno tante persone si sono Hanno dato un po' all'ultimo E noi abbiamo detto Che amici abbiamo lo stesso Già si capiva che tra di noi c'era del feeling Però Comunque nessuno di due si è appuntato Insomma Vabbè Tolto la friendzone dell'anno prima Ma di cui loro sanno Perchè non sono i tempi sul canale Perchè ragazzetto Ampiamente friendzonato Un anno prima Del nostro fidanzamento E poi insomma Quasi sono cambiate in un anno Qual è la data del nostro primo appuntamento? E io non lo so Ecco Tu si Certo E qual è? 6 luglio 2019 Ecco 6 luglio 2019 2 luglio 2019 E comunque Quale della favola Il primo appuntamento Siamo andati Centro A Catania A Nievski A cenare Che è un ristorante Un ristorante Frequentavamo tanto in quel periodo Lì erano gli anni del Nievski Prima E dopo il Nievski siamo andati A bere A bere In un posto in cui andavamo a bere Sempre che erano dei pochi di bar Che dava alcune minorelle E poi era una scelta obbligata Sempre in centro a Catania Sempre in centro a Catania E E Questo è stato il nostro mio appuntamento Poi c'è stato il primo bacio Lo stesso giorno? Si A quanto è imbarazzante E Comunque lui Lui la ricorda Facile il nostro primo bacio Io Come ricorderemo tutti Perché questa è la leggenda ormai Prima del primo bacio cosa ho fatto? Lo sai? Perché mi vergognavo? Sei andato in bagno? E ho detto No io un attimo devo Devo andare in bagno Anziché andare in bagno vado a un bar Ah si Mi sono fatto il ciottetto Due ciottini di vodka secca Perché mi vergognavo da morire Era un momento imbarazzante Comunque Come potrete immaginare Raffini è andata a bere Però eravamo troppo piccoli Andiamo avanti Quando hai incontrato la mia famiglia? Non lo so Allora Io mi ricordo quando tu sei Hai incontrato la mia famiglia Alla mia famiglia Per la mia famiglia Quando? Quando? Il compleanno Il mio padre In casa Ti ricordi quello Il compleanno Non è possibile quella È la prima volta dopo sei mesi? Certo Sì sì Così tanto tempo Sono sicuro Sono sicuro Ma io guarda che I tuoi Ti ricordi per la prima volta Il compleanno Ti ricordi per la prima volta Non sono sicuro Poi di questo Che ho fatto quell'anno Il compleanno? In casa Loro uscivano e andavano al cinema In Federico E Io ero appena arrivato Loro se ne stavano andando E ci siamo saltati Ma io c'ero? Non credo Oh sì 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 Era lì Era l'ingresso Vabbè No Vabbè Ma già mi conoscevano Certo padre mille volte Esatto Mio padre gli aveva dato Tanti passaggi in macchina E non conosceva Perché faceva parte Diciamo Non conoscevo tua madre Non conoscevo tua madre Esatto Ma poi dovete sapere Che nella coppia Mio padre è quello Molto Liberale Non è il padre Tipico geloso Nel sud Mia madre invece è un po' Militare Diciamo Diciamo così Andiamo avanti A questo abbiamo già risposto A questo abbiamo già risposto A quanto tempo Stati insieme 5 anni E Un 30 luglio Nel 2019 E quindi dopo Un mese Dal 6 luglio Vabbè Ma non è tanto Un mese di frequentazione Sono tanti 5 anni insieme Cioè noi siamo abbecchiati Ho capito 5 anni 5 anni Ma non è che tu mi hai conosciuto Ma non è che tu mi hai conosciuto il 6 luglio Tu mi hai conosciuto il 9 settembre Tu mi hai conosciuto il 16 Io di te O tu di me Tu di me Tu di me Niente Perché Poi Era stanca Perché Io ho già provato E le dicevano Guarda che è un bel ragazzo È un bravo ragazzo E allora Poi Si è stancata E accettuta Ma si sta È un bel ragazzo È un bel ragazzo Non lo so Cos'è stata la prima cosa cura Se te Credo Prima di tutto L'altezza Che eri molto alto Perché se ti ricordi Eh Eh Vabbè Adesso Passo ripeto adesso Si però A direi i tempi Mi sembravi alto Adesso mi sembra normale Vabbè Hai un'altezza È un'altezza normale È più alta della media siciliana Questo è sicuro Però è un'altezza normale Perché sei Ormai 1,87 1,87 È più alto dell'altezza normale Però C'è una che sei 2 metri Dallo io È un'altezza del mio 1,57 Ma c'è stata Ma è un 1,60 Parla il nano No comunque l'altezza C'è proprio la stanza Perché io La media Di ragazze sicili È un 1,60 Ma un giorno Avanti Eh Io sono molto più carina Della media Della ragazza Momento di Botta di autostima Eh Che passerà tra 3 secondi Esatto Non scherzo comunque È sicuramente la stanza Non soltanto l'altezza È un po' le dimensioni Perché a me Piacciono i ragazzi Un po' impostati Non molto secchi Ecco E Soprattutto ho il pallino Che un ragazzo Non deve essere In quanto me Perché non è che ci voglia molto Però ai tempi Ero più Grassotella Quindi avevo il terrore Di stare con un ragazzo Che fosse più magro di me E quindi Una delle cose Che mi aveva subito colpito di te È stata La stanza E poi Le mani Ti ricordi che Facevamo sempre qualcosa No Facevamo sempre qualcosa Con le mani Il mio appuntamento Mi ricordo Sì E Andiamo avanti Ah E io Cosa ho notato di te Cioè tu È bellissima E tu cosa hai notato di me? No Monta gli occhi E cuoricino questo È bellissima Amore mia Che cosa hai notato però di me? A prima il patto? Sì Però hai capito che ti piacevo? Eh Il carattere Cioè Il carattere? Sì sì Tanto E Poi va bene anche La tua è rimocia La tua è rimocia La è rimocia È un modo tipo di attrazione Ah beh sa che mi è sempre piaciuto Tante cose Beh è piccolo Per lì Piccolo Cioè in che senso piccolo Di età? Eh E anche tu eri piccolo Scusa Erano piccolo Non eravamo piccolo Erano piccoli tutti e due Quindi non è che ti colpisce il fatto che fossi piccolo No Dicò Eri piccolina La differenza Ma è meglio adesso È meglio adesso quando c'è un esitio Meglio adesso Ma tanto Però Però Anche quando eri piccolo lo sai C'è molto Infatti Ci ho provato il mio franzo Ok Io vi rimando sempre al video della franzo Sì Mettilo Mettilo sotto Perché lì ho spiegato per ora cosa è successo di avanti Sì Non ci vedo Devi leggere le domande Eh sì Aspetta Qua Qual è la mia musica preferita? Sì Da tu a un tempo avrei detto ultimo A oggi non so è ancora ultimo No vabbè In generale ascolto tutto Lui è musica italiana comunque Si 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 Ma si un po' di portoghese Ma Ma Italiana assolutamente E io? Ma ascolto pochissimo di inglese per esempio E io cosa ascolto? Tu Musica Debi rabbia Debi Musica dei piatti Celtica Celtica La musica celtica Non so che scoperta Non sono nomi Musica folk Musica tipo folk rock Questa roba qua Vabbè Oppure la musica irlandese Adesso non siamo andati in Irlanda Questa è stata vista con gli Irish Rovers E poi non conosce nemmeno una canzone Del momento praticamente Non mi piace Siamo scesi qui a Catania per le vacanze E' la prima volta che siamo saliti insieme Ma che ho messo la playlist del momento Lei mi ha detto Ma non ne conosco alcuna Adesso le so tutte Ma intanto ti ascolta la musica celtica E' il Sirtaki Quello greco L'ignorante Eh si lo so che è greco Ma ti cantrò poco di Sirtaki Quello è un ballo Inirante Non lo so Dai siamo a 20 minuti di video Andiamo avanti Quale talento ho? Ne ha tanti ragazzo Sicuramente ha un talento Ma non è talento Ma non è talento Cavolo Menti mia cerca di aggiustare un dente Vedi che non ci vuole talento Porca miseria Cioè Non lo so E' proprio Si a me sembra proprio bravo Quando vuoi tutto ciò che riguarda i testi Forse perché non ci capisco niente Però a me sembra un po' bravo E poi cucinare ragazzi Molto molto bravo Cucinare ragazzo Tanto Io che talento Sostituami A te ne dovevo nominare uno solo Io che talento Non posso dirlo? Sui tu Scassare qualcosa? Eh La vedai sintattica No La verità Che altro Comunque Che talento hai? Guarda che non andiamo a mangiarci il cornetto Se non ci muoviamo Ma che talento hai però? E questo è il fatto Non ne ho nessuno Sto scherzando Ma non ce l'hai Un talento per esempio E' la tua costanza nelle cose Costanza? E' certo O no Hai aperto un progetto Tanti anni fa Che si chiama Mughella SMR Che sta continuando nel tempo E questo è costante E' che quando mi mettete Su una cosa Non riesco Si Poi E che altro Ne basta uno solo? Ah come solo? No Dimmi Perché altro La prossima è facile Almeno Per te C'è un cibo Che non ci piace La voglio A te non piacciono Tipo Non è facile A me è facilissimo Lei ti testo Quello che mi fa uno schifo Ma le voglio vedere Le sono fatte Le cipolle Bravissime Vabbè Ma anche altre cose Ti piacciono Vabbè Ti dico io invece Le mie lanzane Che io non capisco Come capolosi è possibile Che tu lo mangi Le lanzane C'è la parmigiana E siciliana Ma dovresti dire Io sono siciliana adottata Le siciliana E non mangio la parmigiana Cioè Bastardina La vostra normale E non mangio Cioè E' pazzesco Sto Andiamo avanti Chi porta i pantaloni Nella nostra coppia E' Io Sono maschio Il pantaloni L'ascetto Il pantaloni Allora A parte gli scherzi E' In realtà Diciamo che Fino a questo momento Non è che c'è stata molto L'occasione Ancora determinare questa cosa Ma mi prendi in giro? Scusami Scusami Perché Io porto i pantaloni A differenza Tu Ragazzi Dipende dai contesti Diciamo che Che nella maggior parte dei casi Sono io A prendere in mano La situazione Ma se sei l'interno indecisa Io organizzo Prendo le decisioni Sì Ma è importante Lui decide le cose piccole Ma che cosa stai dicendo? No Allora la verità è che Dipende dai contesti Ci sono alcuni contesti in cui Fai tu E alcuni contesti in cui faccio io La prima passione No, no Già l'abbiamo detto Già l'abbiamo detto Qual'era la prima cosa Che ci ha colpiti? E' che hai notato di me Che è la stessa cosa Quindi Qual'è un ricordo Divertendo e imbarazzante Che avete condiviso? Ah Queste sono quelle di Ale e Agna Perché mi torto la mia sposta O Agna e Ale Allora Allora imbarazzante Imbarazzante Non ci sono stati momenti in mezzo? Pensaci Forse mai Ma che come no? Eh non mi sta prendendo allora Qualcora imbarazzante Che abbiamo condiviso No mi sta prendendo Scena muta Esattamente Ma ce ne sono stati? Sicuro? Non ricordo Non ricordo No sono caduta Al tuo diciottesimo Della ricordo Ah quello può essere un momento Per l'azzardo che Sono caduta davanti a tutti i suoi imponi Ti faccio a terra Su un prato No Tu sei caduta Perché Nel prato C'era tipo il sentiero Con il mattone Con il mattone Uno a quadrato E lei ha messo il tacco Tra il mattone E l'altro mattone E quindi Si è incastrata E quindi è caduta Il fatto è che Però dignitosamente per il lei Con quindici centimetri di tacco Beh il fatto è che C'erano tutti i miei parenti Tutti i miei parenti Tutti i miei parenti Un metro E quindi Lei poi si è alzata Tutti le chiedevano E lei troppo avanzata A rispondere Un po' fuori Poi le domani si è alzata Tutto l'amore Di tutto Andiamo avanti E poi divertente Vabbè tanti momenti divertenti Divertenti tanti Facile da trovare Che momenti? Eh Devi trovare un momento divertente Tanti Tutti i giorni Sai che Però qualcosa che faccia Posso far ridere anche gli altri Non siamo bravi in queste domande No esattiva E Divertente Divertente Che vi ho fatto ridere qualcuno La foto che abbiamo mandato a Marco Vi sei avuto un po' la pizza Dove il tuo nostro? Ma non è divertente? Ragazzi andiamo avanti Io sono noi Vabbè comunque Tanti momenti divertenti Che non ci vengono in mente Perché Non ci sono stati diversi Qual è la cosa Che preferisci Se lo attraversare o Inizio io La pazienza Inizio io e parte lei Vabbè Però ti ho appena detto che sei paziente La pazienza La capacità La capacità di tollerare qualsiasi cosa Da chiunque La soffragità abbastanza Cioè Altezza, larghezza tutto E Ne dovevo dire una sola cosa Esatto Io comunque Qui ripeto la stessa cosa di prima È la costanza Perché io non sono costante in molte cose Lei invece Lei in realtà Perché si fa c'erare? Che si fa c'erare? T'ho aspettato Lei in realtà Quando lo mette però In qualsiasi cosa che non è Molto costante Anche per esempio In una singola dieta In una singola dieta Nel lavoro che la fa O Nello studio O nello studio Cos'è il lavoro? Quei lavoro faccio? Vabbè YouTube comunque YouTube vabbè Passa tempo No? E E poi faccio nostalgia È molto nostalgia Eh No comunque Sicuramente Questo Poi Poi Tanto altro Devo dire anche Fisicamente Cosa? Devo dire anche Cosa Cosa Ah Se vuoi Allora fisicamente in realtà Beh tutto Perché comunque Tant'altro Ma poi Non possiamo dire di no E Quindi mi piace tutto il suo fisico Poi mi piace che si allena Mi piace che Mi piace molto migliorare Il suo aspetto fisico E abbiamo anche un nuovo progetto Ok No ancora lo sanno Eh Poi non fai spoiler E' un nuovo progetto fitness 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 Allora Ma in realtà Ma in realtà Non abbiamo grossi Non abbiamo grossi Conflitti Seri Non ne abbiamo Ne abbiamo Ne abbiamo Piccoli Io invece Io invece Sono una persona Che non voglio Sentire Nulla C'è nel senso Io Se è capitato male Io voglio La tranquillità Tutto il giorno Tutti i giorni Non voglio Non voglio Discussioni Perché Non mi piace Ma non facciamo discussioni serie Cioè Non facciamo discussioni Del calibro Cosa dobbiamo mangiare oggi Io voglio panino Io voglio pizza Cioè Nel senso Non è che sono discussioni serie Oppure del tipo Quando andiamo a fare questo E lei mi dice No quel giorno non posso E io dico Ma scusami È lungo il giorno E da lì Lascia discussioni Ma discussioni serie Non ne abbiamo mai fatte Ti rimolla Lasciarci Ma è niente Una sola volta Ho smesso di quasi parlarti Per cinque giorni Quest'anno Quando dovevi scendere Non sei sceso Certo Vabbè ma non per colpa mia Però dai Andiamo avanti Tu mi dai troppe colpe Che io non ho Andiamo avanti Comunque Come li affrontate Di base Io urlando E lui stando zitto E aspettando anche io Che mi passi Andiamo avanti Io sono una persona molto zen E quindi La lascio La lascio sbollentare E poi Sbollentare Non sbollire Sbollentare E poi Poi quando si calma Parliamo 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 Dico già Un patato E un sapore arrabbiato Andiamo avanti Dunque Il miglior consiglio Che avete ricevuto So come non tenere Una lezione forte Posso dire la verità Non ne abbiamo mai ricevuti Concordo Mai ricevuti È venuto sempre tutto Così normale Facile E basta che ci sia fiducia In una coppia E Non dicono Che non ci deve essere gelosia Ma È giusto Cioè nel senso Non attaccarsi troppo Alle singole cose Ma Magari Lasciarvi anche L'altra persona In una coppia Ecco Lo devo dire Per cui noi Non abbiamo le dici È che non esiste La gelosia Il nostro lupo morito E Se non quella sana In realtà Sì vabbè Ma battutine e cose del genere Ma è niente di serio E quindi Di base Non le dici C'è la Tra la vita dei motivi Per cui il compilitivo Non esiste No Allora Andiamo avanti Anche l'ultimo Dove vi vedete Tra cinque anni? Vai tu Bella domanda Allora Aspetta Mi racconto È facile Amore Ok Sono già lavorato Si spera E Comunque A lavorare Spero Con Lei nella stessa città E Perché Questo è il nostro Problema Al momento E E E Poi Che altro Vabbè Spero di a questo punto Andare a convivere Con lei Se tra cinque anni Staremo ancora insieme E E Lavorare Tra i soldi E Poi Poi Vediamo Più o meno simile Perché comunque Siamo ancora molto giovani Per cui Tra cinque anni E alla fine Neuro 26 Voglio dire E Spero di essere Laureata Due volte In magistrale E Possibilmente Con un master E Possibilmente O con un stage O con un lavoro Vivere Sarebbe bello Comunire con te Si L'obiettivo Ci parla al momento È quello Però Credo che Non sia realizzabile Forse Nel nostro quinto anno Ma nemmeno Perché Lui rimane Un altro Tre anni In Portogallo E quindi Sicuramente Per tre anni No Io Non conto di trovare Lavoro in Sicilia E quindi Poi Finisce Torno in Sicilia Diciamo che È un po' È un po' È importante Esatto Per noi Però Cercheremo di fare Il possibile Sicuramente E Tanto per adesso Tutto bene Cosa è tanto bene Esatto Poi io sono una persona Che vive al presente Lei no Lei deve progettare Programmare tutto Quello che vuole fare Nella sua vita Io mi vivevo molto Alla giornata Ma del tipo che Mi sveglio la mattina E decido cosa fare Durante il giorno Lei invece no Lei ha già programmato tutta La prossima settimana E a me questa cosa Per esempio Fa in tozzia Anche il prossimo Quello so è il mio Non so Ma io Io programma tipo A interpelli regolari Di quindici minuti Mamma mia C'è Non si può fare Proprio così C'è Non è vita Non puoi stare tranquilla Ma a proposito Siamo abbastanza in ritardo Sulla tabella di marcia Sì vabbè Salutiamo dai Che mi vado a mangiare il cornetto Ciao ragazzi Noi vi ringraziamo Vi salutiamo E vi diciamo Che ci vediamo direttamente Nel prossimo video Cosa si dice Qualcora cosa Ciao 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 Ciao